Sono in corso indagini per fare chiarezza su un'intimidazione al sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. Una scritta con offese e minacce, ma anche un fazzoletto inzuppato di sangue è stato recapitato al primo cittadino. Un avvertimento che è arrivato in una busta all'ufficio protocollo del municipio del comune. L'impiegato che l'ha aperta è stato addirittura colto da malore. Maria Grazia Brandara ha già formalizzato la denuncia a carico di ignoti alla stazione dei Carabinieri ed ha anche segnalato l'accaduto al Consiglio Comunale del Paese. La Brandara nel corso degli anni ha ricevuto diversi messaggi intimidatori, lettere, proiettili e anche la foto di una bara. Nel 2017 le venne assegnata, su decisione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la tutela di una pattuglia della Polizia. Era allora commissario straordinario del comune di Licata. Rischiati a toccare le nostre case e sei morta, ti sgozziamo via, fai una sola cosa contro di noi e ti scanniamo, ti seguiamo e ti controlliamo a vista. Questo era l'inizio del messaggio intimidatorio che si chiudeva con la foto di una cassa da morto vuota arrivata appunto alla Brandara.